Continuiamo la programma dal vivo con le domande da parte dei ascoltatori e da parte di Rosario. Carissimi fratelli in Gesù, un abbraccio a tutti voi da parte mia. Questa mattina mi sono incontrato con un caro fratello e abbiamo parlato di Gesù, abbiamo pregato insieme e poi abbiamo parlato della parola e abbiamo queste domande. Chi è l'anima? Chi è lo spirito? Chi deve essere sottomesso? Lo spirito o l'anima? Chi deve morire? Grazie per l'attenzione, io e questo fratello aspetteremo con ansia un tuo parere in merito. E poi hanno un'altra domanda di spiegare brevemente il Salmo 103. Un abbraccio caloroso in Gesù. Beh, l'anima è il nostro vero io praticamente. Cioè il nostro vero io non è la carne. Non è quel sacco di patate che io guardo allo specchio quando mi guardo allo specchio. Non mi guardo molto perché non c'è niente da guadagnare la carne. Quindi il nostro io non è la carne che diventa la polvere. Ok. Capisce? L'anima è il nostro vero io. L'anima? È l'anima che va in cielo. E l'anima cosa è? L'anima è il nostro vero io, quello che è di dentro. Siamo proprio io, io. Il corpo è un po' come l'impacchettatura, l'incartamento dell'anima che si chiama carne. L'anima è la creazione di Dio. Cos'è esattamente? Questa è una domanda così facile, basta che domandi a Dio e te lo dice subito. Cos'è esattamente? Se vuoi sapere proprio scientificamente, chiede al Signore e te lo dice subito. Allora, guarda, leggi il Salmo 16,10. Cioè alla morte il nostro corpo di carne diventa polvere, no? Sì. Leggi il Salmo 16,10. Perché tu non lascerai l'anima mia nel Sheol e non permetterai che il tuo Santo veda la corruzione. Capito, quindi è l'anima che va nel soggiorno dei morti, che va nel mondo dello spirito. La carne no, quindi qui abbiamo già definito la carne e l'anima, va bene? Ok, ok. Allora, è l'anima che si salva o non si salva? È l'anima che si salva, certo. Ho capito. Perché Adamo era anima immortale, però quando ha perso lo spirito che la rendeva immortale, ecco che l'anima diventa mortale. Allora, è l'anima che deve morire se muore o salvarsi? Sì, innanzitutto muore la carne. Sì, chiaro. Ogni funerale questo lo vedi. Sì. E poi l'anima va nel mondo dello spirito, quindi o va nel mondo dello spirito con Gesù in cielo immediatamente perché sei salvo, o va nel soggiorno dei morti in attesa del terribile giudizio di Apocalisse 20,11. Va bene? Sì. E poi rimane lo spirito. E lo spirito cosa è? E lo spirito, infatti, guarda, perché non leggi una scrittura? Primo Tessalonicesi 5,23. Primo Tessalonicesi 5,23. Ora, il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Capisci? Dice, noi cristiani siamo tre entità, spirito, uno, due, anima e tre corpo. Quelli che non sono cristiani sono due entità, corpo, carne e anima, non hanno spirito. E come mai? Perché non sono nati di nuovo. Guardi, se tu vado in Giovanni 3, Gesù parla con Nicodemo, va bene? Giovanni 3? Sì. E poi? Giovanni 3 dal verso 3. Gesù gli rispose e disse, In verità, in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, ma come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non me lavedarti se, ho detto, dovete nascere di nuovo. Continuo. Quindi, no, chi nasce dalla carne è carne, quindi tu sei nata da tua madre e sei carne. Sì. Ora, in questo involucro di carne c'è l'anima, tutti ce l'hanno. Ora, quando uno riceve Gesù Cristo nasce di spirito, quindi l'anima diventa immortale, l'anima non muore più. Però l'anima è il tuo io, quindi vai da primo Giovanni 3,9. Ok. Primo Giovanni 3,9. L'anima rimane peccatrice, sei tu l'anima, però lo spirito santo che entra in te non pecca, quello è lo spirito santo che entra in te. Primo Giovanni 3,9. Sì. Chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può pecare perché è nato da Dio. Quindi questo si riferisce allo spirito santo che viene rinnovato, capito? Tu quando nasci di nuovo, il tuo spirito santo perduto in Adamo viene rinnovato, Tito 3,5. Ok. Leggi Tito 3,5. Tito 3,5. Ecco, quindi ci ha salvato rinnovando lo spirito santo che in Adamo abbiamo perso. Quando perdi lo spirito santo, tu perdi la salvezza. Quindi, certo, certo, perché non stiamo parlando dell'unzione qui, stiamo parlando del spirito santo che ti dà la salvezza. Lo spirito santo che Adamo e Deo hanno perso, li ha fatto sì che morissero. Capisce? Ora, Tito 3,5 dice, ci salva tramite, aspetta, ci salva tramite il rinnovamento dello spirito santo. Quindi lo spirito santo perso in Adamo viene rinnovato in Cristo. Però Dio ha detto a Adamo che voi morirete, non ha detto che voi perderete lo spirito santo. Beh, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? Intendeva quello. Non ha detto che voi perderete lo spirito santo. E' come quando te dici, guarda, questi condannati a morte moriranno domani. Non c'è bisogno che gli dici moriranno per pallottola o per una bomba, o per tagliargli la testa. Moriranno domani. Dio ha detto, se mangiate questo frutto morirete. E poi è una cosa semplicemente tecnica che la morte sarebbe sopravenuto perché Dio avrebbe ritirato lo spirito santo. Ma tu hai detto che uno se perde lo spirito santo perde la salvezza. Ma ci sono tanti cristiani nati di nuovo che non hanno lo spirito santo ancora e sono perduti? Beh, questo infatti è una cosa teologica che molti dibattono. Cioè, in effetti, per andare in cielo bisogna essere battezzato lo spirito santo? Io direi di sì. Perché Gesù ha detto in Marco 16, 16, 16, 17, ha detto che chi ha creduto e sarà battezzato sarà salvato. Qui parlavo dello spirito santo. Quindi la salvezza sta nel credere e nell'essere battezzato lo spirito santo. I cristiani che non sono battezzati nello spirito santo per arrivare in cielo, per essere salvati, prima o poi dovranno ricevere il battesimo nello spirito santo. Perché se i testi di Gesù non sono salvi, non credono nello spirito santo. Ma non credono in Gesù? Beh, ci credono in una maniera un po' storpiata. Non credono che lui è parte di Dio, non credono che lui è Dio. Allora, tu dici che se non abbiamo lo spirito santo non possiamo essere salvati. Questo non dice nella Bibbia. La Bibbia dice di ricevere Gesù e sei salvo. Marco 16, 16, chi ha creduto e sarà battezzato sarà salvato. Quindi servono due elementi qua. Cioè Gesù Cristo, capisci, e il battesimo del spirito santo. Perché lo spirito santo, diciamo, è il veicolo che ti porta in cielo, capisci. Ce l'hai? 16, 16. E chi ha creduto e sarà battezzato sarà salvato. E chi non ha creduto sarà condannato. Capito. Quindi per salvati deve essere uno, credere, due, essere battezzato. Nello spirito, non l'acqua. Sì. Ci siamo? Noi siamo molto semplici. Va bene. Non è convinto o no? Non sei convinto? No. Ebbene, chiediti se sarà dato. Non avete perché non chiedete. Cosa vuoi sapere di più? No, prima io ho creduto in Gesù, prima di ricevere lo spirito santo e ho pensato che la salvezza è in Gesù. Ma senti, non litigare con me. Gesù dice lì, Marco 16, 16, che ha creduto e sarà battezzato sarà salvato. Quindi, per questo che Gesù ha detto in Matteo 28, andate battezzati i popoli, nome del padre, figlio del spirito santo. Guardate, battezzato il spirito santo non è una cerimonia religiosa. Lo spirito santo è Gesù, è la stessa persona. Capisci? Infatti, Gesù è dato in cielo, adesso non c'è più Gesù qui nella carne che cammina. Chi c'è qui? È lo spirito santo, ma è la stessa persona. Gesù ha detto a Giovanni 14, il spirito santo è con voi e sarà in voi. Sì. Va bene? Sì. Poi questo fratello ti chiede, chi deve essere sottomesso, lo spirito o l'anima? Beh, è chiaro che è l'anima che deve sottomettere lo spirito. Purtroppo a volte si sottomette la carne. Noi siamo tre entità, abbiamo visto prima il testo non dicevi cinque. Siamo spirito, anima e corpo. Quindi il corpo rappresenta il diavolo, rappresenta la caduta dopo di Adam e Deva, rappresenta la nostra carne, Adamo, caduto. Lo spirito rappresenta quando nasce di nuovo. Capisci? E l'anima siamo noi. Noi che in continuazione scegliamo in continuazione. Carne o spirito? Carne o spirito? Gesù o carne? Bugio o verità? Egoismo o Cristo? E' l'anima che sceglie. Non è lo spirito santo in noi che sceglie, perché se no allora diventeremo robot. Non è la carne che sceglie, perché se no saremmo schiavi. E' l'anima che è la lancetta che oscilla tra bene e male, tra spirito di Dio, spirito santo, nato di nuovo, e carne peccaminosa caduta in Adamo. Per questo tu cammini per la strada e vedi delle cose e c'è tentazione. Si è tentata di guardare cose che non dovresti. E' la carne. Capisci? Per questo che dobbiamo lavarci il cervello in continuazione con la parola di Dio, così che, come dice Paolo, io rendo schiavo la mia carne sotto di me, rendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Cioè in continuazione dobbiamo, la mente, la mente carnale, come un bambino viziato, ribelle, capite, io ne ho sei qua e ci sono passati tutti per la ribellione. Ci sono passato anch'io, ci si è passato anche tu. E qui ci prendiamo turno a passarci di nuovo. Sì. Vero, non è che siamo perfetti qua, no? Quindi in continuazione la nostra anima deve dire alla carne, mentre il carnale stai zitta, non capisci niente, silenzio, stai soggiogatamente carnale, a Cristo. Capisci? Purtroppo a volte l'anima dice, ma va un po' di qui, un po' di là per i territori del diavolo, verso i bei territori zuccherati del peccato e bisogna riportarla affinché ricominciamo a camminare nel sentiero stretto e diritto. Amen? Amen. E poi lo stesso fratello Rosario ti chiede una breve spiegazione del Salmo 103.